20 milioni di euro per il parco depurativo di Pescara, lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa il Presidente del Regione, Luciano D'Alfonso. 12 milioni e mezzo già sono in esercizio contrattuale e sono anche contento che il mercato ha selezionato un'impresa e più imprese capaci di fare i lavori e di guadagnare lavorando, non litigando o inventando problemi. Ed è il caso del potenziamento dell'attuale depuratore di Pescara. Più avevamo promesso e abbiamo trovato altri 20 milioni di euro per il parco depurativo di Pescara che al servizio della domanda di tutta l'area metropolitana. Si creano strutture e vasche per ospitare l'acqua non usata, per esempio che derivi dal cielo, in maniera tale da non appesantire il depuratore di Pescara perché se ci va l'acqua che non deve essere lavata e depurata, quella struttura va in sofferenza. Fa il troppo pieno e come un imbuto che poi fa fuoriuscire. Creando le vasche di prima accoglienza si consente al depuratore di fare il depuratore con il parco depurativo. Gli interventi sul depuratore noi mettiamo non in sicurezza ma di più il sistema del ciclo idrico dell'area metropolitana di Pescara e di Chieti. Abbiamo trovato soluzione anche alle esigenze di spoltore di San Giovanni Tiatino facendo in modo che vadano a conferire alla struttura di San Martino. Quello che andava fatto 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa lo stiamo facendo adesso attraverso questa grande operazione. Ersi completa il progetto Arap Appalta e il progetto sarà completato a fine dicembre. Entro 60-70 giorni avremo il vincitore di questa gara per 20 milioni di euro e poi cominceranno i lavori. Come vedete tutto sta tornando in una rete che in questi 40 mesi è stata di grande fatica e di grande applicazione. Noi vorremmo che dagli spalti anche dell'opposizione, che è un mestiere importante per la democrazia, arrivassero suggerimenti e quando c'è ragione anche applausi.